Il Castello Gamba di Sciatio, un museo di arte moderna e contemporanea della Valle d'Aosta, accoglie la personale dell'artista valdostana Chico Margaroli, intitolata Passaggio a dimora, bedding out. Passaggio a dimora proprio perché un po' sono tornata a casa, nel senso che Sporre in Valle è veramente sempre la mia casa, quindi torno molto volentieri. E seconda cosa è un passaggio perché è una mostra dedicata a ciò che muta, a ciò che cambia. La mostra, curata da Marco Maggi, presenta le tappe più significative del percorso dell'artista, sia in forma retrospettiva sia di esplorazione delle tematiche più recenti del suo lavoro. Nelle opere in mostra che coprono l'arco di produzione degli anni 2000, Chico Margaroli intende valorizzare quell'istanza etica e politica che l'arte contemporanea deve avere. Un'arte attiva che richiede il coinvolgimento, la partecipazione e anche la fruizione del pubblico, più eterogeneo possibile, per età e per interesse. Un'esposizione che sa avvicinare anche i più piccoli attraverso installazioni coinvolgenti e immediate. La mia dinamica è molto mista, c'è tutta la parte decorativa che fa molto parte del mio lavoro, perché è una mia caratteristica. L'esposizione tratta alcune tematiche presenti all'Expo di Milano 2015, legate al diritto al cibo, alla salvaguardia e alla biodiversità in cultura. In mostra sono trattati anche alcuni aspetti meno noti della produzione dell'artista, gli interventi nei campi della videoarte, realizzati con Anna e Giuseppe Tassone, e degli arts and craft, in equilibrio tra recupero della tradizione e tecnologie avanzate, con il gruppo Zoyer, Fosbury ADV, per le SOC. Lo sviluppo in 3D di modellistica della scarpa di lusso, seguito da Fab Lab Aosta di Cristina D'Arienzo e Daniele Aureli. E Mama Art, per il profumo Ricordati di Fiorire. Abbiamo dedicato una parte al cibo, per coniugarci con Expo, e poi l'ingresso, ci tenevamo molto che è l'area più fredda del castello, ci siamo legati al Monte Bianco con Skyway. La mostra è stata inaugurata dal presidente della regione, Augusto Rolandin. Sicuramente è una mostra di grande interesse, situata al castello Gamba, che è la sua collocazione ideale. di fatti è stato studiato un percorso legato proprio a questa struttura, dove si racconta, dove in qualche modo si inserisce l'opera di Chico Margaroli, che ormai è un artista a livello internazionale. L'esposizione Passaggio a dimora Bed in Auto rimarrà aperta fino al 31 ottobre 2015.